Buon pomeriggio a tutti voi che ci seguite, ritorniamo puntualissimi anche questa settimana con Spazio Salute per parlarvi oggi di difetti della vista ma prima capiremo anche come funziona il nostro occhio perché vediamo per tutto questo ci accompagnerà il dottor Antonio Laborante responsabile dell'unità operativa di oculistica in casa Sollievo, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Siccome l'argomento è molto vasto e il tempo a nostra disposizione come sempre non è molto vorrei iniziare subito dottor Laborante approfittando della sua presenza per fare una sorta di viaggio virtuale all'interno del nostro occhio perché vediamo come vediamo come funziona l'occhio la domanda ovviamente è molto complessa però cerchiamo di sintetizzare il più possibile l'occhio ovviamente è quella parte del nostro corpo collegato al cervello quindi rifatto da un distanza anche questo sviluppo embrionale è un'estroflessione del cervello è il modo con cui noi ci poniamo di fronte al mondo affinché noi vediamo è chiaro che l'occhio deve poterci permettere la formazione dell'immagine direttamente in maniera nitida sulla retina. Questo non è una cosa che si verifica in maniera assolutamente normale ma ha necessità di avere delle strutture che lavorino bene. Vediamo nella diapositiva abbiamo visto un'immagine prima chiediamo alla regia di rimandarla in onda ecco la qui abbiamo visto come l'occhio affinché ciò si realizzi deve formare l'immagine direttamente sulla retina ma questo si può determinare perché ha tutto un sistema di convergenza di messa a fuoco che è caratterizzato soprattutto ma non esclusivamente da due tessuti importanti che sono la cornea e il cristallino. Ovviamente l'altro fattore che condiziona la nitidezza la messa a fuoco sulla retina è la lunghezza dell'occhio per cui i raggi luminosi che arrivano paralleli vicino a queste strutture devono avere proprio un sistema di convergenza per cui l'immagine si forma sulla retina. Se questo si realizza diciamo che la visione è nitida e si parla di emetropia. Se invece questo non si realizza vedremo poi in una slide successiva si ha la ametropia e se andiamo avanti con la slide vediamo che affinché questo sia efficace è necessario che alcuni parametri siano fondamentalmente corretti. La curvatura della superficie anteriore e posteriore della cornea, la curvatura della superficie anteriore e posteriore del cristallino, la posizione del cristallino, la lunghezza dell'occhio e anche l'indice di rifrazione dei mezzi diottrici del cristallino. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle patologie dell'occhio per cui la consistenza, la durezza di questi tessuti condizionano anche la trasmissione dell'immagine, della luce e quindi la formazione dell'immagine. Quindi l'occhio è un organo fondamentale per la visione, i raggi luminosi che vanno a fuoco sulla retina vengono poi trasformati in impulsi elettrici e trasmessi attraverso il nervo ottico alle aree cerebrali deputate alla visione. A un certo punto però qualcosa può andare storto, possiamo dire, ed entriamo poi nell'argomento proprio della puntata, ovvero i difetti della vista. Parleremo di miopia, ipermetropia e astigmatismo e nella seconda parte un accenno anche ad un'altra patologia che è il keratocono. Le chiedo lo sforzo di essere veloce. Partiamo dalla miopia. Che cos'è la miopia? La miopia è quella condizione per cui o perché l'occhio ha una curvatura particolarmente esagerata, cioè eccessiva, o perché l'occhio è particolarmente lungo, o perché l'occhio presenta dei danni a livello del cristallino, si determina che l'immagine anziché formarsi nitidamente sulla retina, si forma al davanti della retina. Noi vediamo in queste immagini come la immagine, ecco là immaginiamo un mappamondo, l'immagine del mappamondo cade direttamente avanti al piano retinico e questo può verificarsi o per motivazioni genetiche, esiste una miopia che può essere geneticamente determinata e in genere quindi è congenita ed è purtroppo associata a problemi più importanti, malformativi, oppure può essere una miopia più semplice e viene classificata in semplice, lieve, media o importante o addirittura in alcuni casi la miopia può essere anche degenerativa e là la componente genetica è molto importante, non è più una miopia normale ma una miopia che determina tutta una serie di patologie e di danni a livello del tessuto retinico e coroideale. Il difetto della miopia comporta la difficoltà di guardare le cose da lontano. Esatto, diciamo che nella maggior parte dei casi è giusto dire questo però in effetti non è sempre vero, questo è vero nelle miopie lievi, medie e diciamo elevate ma nelle miopie degenerative noi spesso vediamo persone che per leggere avvicinano l'immagine nonostante sono mio, per cui nelle forme gravi il paziente vede male da lontano ma vede male da vicino, però nell'immaginario collettivo è giusto dire che la miopia è un difetto che ci fa vedere male da lontano. Mentre l'ipermetropia che cos'è? L'ipermetropia invece al contrario è una patologia, un vizio refrattivo in cui l'occhio è più piccolo per cui l'immagine come vediamo qua nella diapositiva si forma dietro la retina e quindi abbiamo bisogno di spostare le immagini avanti con una serie di cose che andremo poi a valutare. Quindi generalmente l'ipermetrope è una persona che ha una visione offuscata da vicino meno da lontano, però anche in questo caso dipende dall'entità dell'ipermetropia. Da non confondere con la presbiopia, giusto? Sì, la presbiopia invece non è un vero e proprio vizio refrattivo ma è un difetto fisiologico che viene con l'età generalmente dopo i 40-45 anni, per cui la messa a fuoco, la capacità accomodativa che abbiamo di vedere alle varie distanze viene meno perché il cristallino diventa più duro e il muscolo ciliare lavora meno bene, quindi in questo caso comunque utilizziamo per la collezione delle lenti positive ma il difetto non è più ipermetropico ma un difetto di tipo presbiopico. L'ipermetropia in genere è più appannaggio dei bambini, spesso i bambini sono affetti da ipermetropia mentre la presbiopia fa appannaggio dei pazienti di media età o di elevata età. Sono difetti molto diffusi, la miopia per esempio si ritiene che sia presente in circa il 20% della popolazione italiana, l'ipermetropia addirittura nel 5-10% della popolazione pediatrica e nei casi più gravi anche nelle persone di media età. Mentre quando parliamo di astigmatismo che cosa intendiamo? L'astigmatismo è una situazione in cui la messa a fuoco non avviene più solo in base a un'asse, nel caso della miopia abbiamo visto la messa a fuoco è anteriore rispetto alla retina e l'ipermetropia è posteriore, nel caso dell'astigmatismo invece la messa a fuoco è secondo due assi che possono cadere, andare a fuoco a differenza dei vari tipi che adesso non sto qua a puntualizzare, avanti, dietro o tutti e due avanti gli assi o tutti e due dietro. Vediamo nella slide quelle linee con quel cerchio che anziché essere bello regolare li vediamo un po' sfocati, un po' irregolari. Generalmente è un difetto che viene dalla nascita tende ad essere stabile e a non peggiorare nel tempo, a differenza della miopia che in genere peggiora con l'accrescimento e della ipermetropia che invece in genere migliora con l'accrescimento. Poi parleremo anche delle ultime tecniche, in particolare del laser a eccimeri che appunto aiutano a eliminare questi difetti. Prima però parliamo degli esami diagnostici sulla cornea, ovvero della topografia e della pachimetria che servono proprio a fare una diagnosi sulla cornea anche per vedere poi i possibili candidati a laser a eccimeri di cui parlavamo. Ascoltiamo il dottor Mario Gaspari, oculista in casa Soglievo della Sofferenza, che ci spiega questi due esami appunto diagnostici. La pachimetria corneale sono due esami fondamentali per lo studio della cornea che rappresenta la prima lente naturale che la luce incontra nel suo viaggio all'interno dell'occhio. Questa cornea è una membrana estremamente trasparente e ha fondamentalmente due funzioni. La prima è quella di protezione, diciamo, come uno scudo, la prima barriera che protegge l'occhio nella sua parte anteriore e la seconda funzione è quella di far convergere i raggi luminosi sulla fovea, che è la parte centrale della retina attraverso la quale noi poi riusciamo a vedere le immagini distinte. Con la topografia corneale noi riusciamo ad acquisire molte informazioni sulla cornea, in particolare quello che riguarda la morfologia della superficie corneale. È un esame non invasivo, il paziente è seduto su uno sgabello, appoggia il mento e la fronte, una fotocamera digitale acquisisce l'immagine che poi viene elaborata dal software che si trova all'interno del computer e ne risulta una mappa cromatica. Questa mappa cromatica ci dice della superficie esterna della cornea, dove noi abbiamo dei colori più freddi che indicano le parti più piatte della cornea e dei colori più caldi che invece ci indicano le parti più curve. Possiamo valutare l'astigmatismo, possiamo valutare molte patologie corneali, una di quelle più importanti è il keratocono che consiste in un sfiancamento della cornea che si vede benissimo attraverso la topografia corneale. Un'altra funzione importante della topografia è quella di darci l'idoneità ai pazienti che desiderano sottoporsi a intervento di chirurgia refrattiva con il laser ai cimili che noi da molti anni facciamo qui a San Giovanni Rotondo, cioè ci dice se quel paziente con quel difetto visivo può essere sottoposto a questo intervento. L'intervento viene fatto appunto sulla cornea. Per quanto riguarda invece la pachimetria corneale è la misurazione dello spessore della cornea in ogni suo punto. Anche questo è un esame non invasivo che viene diciamo svolto similmente alla topografia, sempre acquisizione tramite computer, elaborazione dell'immagine e questa volta la mappa cromatica che viene fuori ci dà delle indicazioni riguardo allo spessore corneale. Quando è importante conoscere lo spessore corneale? È importante sia nella affidabilità della misurazione della pressione degli occhi perché diciamo lo spessore della cornea influenza la misurazione della pressione degli occhi e inoltre nella patologia che abbiamo citato prima del creatocono ci dà un'informazione fondamentale nella evoluzione di questa malattia perché ci dice mano a mano che questa malattia va avanti c'è un progressivo assottigliamento dello spessore corneale. Altro dato importante per la entità della correzione della chirurgia reflativa cioè in base al difetto visivo che ha una persona io sapendo la pachimetria corneale posso sapere se è possibile con il laser togliere tutto il difetto o se invece non è possibile toglierlo. Ringraziamo il dottor Gaspari, noi ci fermiamo per qualche secondo e poi ritorniamo ancora qui. E ritorniamo in diretta in compagnia del dottor Antonio Laborante responsabile dell'unità operativa di oculistica in casa sollievo della sofferenza. Stiamo parlando di difetti della vista, li abbiamo raccontati, abbiamo spiegato cosa sono la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo e anche altri. Abbiamo visto anche quali sono gli esami che occorrono per fare diagnosi sulla cornea, ma come si curano questi difetti? Diciamo fondamentalmente in tutti i vizi refrattivi noi dobbiamo permettere all'occhio di mettere a fuoco sulla retina, quindi è chiaro che a seconda del vizio utilizzeremo delle lenti che hanno la funzione di determinare ciò. Nel caso della miopia abbiamo visto l'occhio più lungo quindi utilizzeremo delle lenti da occhiale, da tempiale che determinano una divergenza perché l'occhio essendo più lungo dobbiamo spostare l'immagine dietro, diversamente nell'ipermetropia lenti convergenti. Poi non dobbiamo dimenticare l'utilizzo delle lenti a contatto che possono essere morbide, rigida o semirigida a seconda del difetto di vista e ovviamente se invece il paziente richiede oppure vuole per motivi lavorativi o perché non sopporta più lenti a contatto sottoporsi alla correzione, resta la possibilità della correzione chirurgica o meglio con il laser, abbiamo due possibilità, laser a decimeri e laser a femmetosecondi. Sono entrambi dei laser molto precisi e in effetti il laser a decimeri è una macchina che si usa ormai da oltre 30 anni, però adesso abbiamo in dotazione anche nel nostro ospedale un laser di ultimissima generazione che permette di correggere i vizi refrattivi togliendo meno tessuto in maniera molto più rapida e più precisa. Dovremmo avere anche delle immagini che ce lo raccontano e appunto il laser a decimeri poi ci libera definitivamente dall'utilizzo, anche dal peso, di dover portare sempre gli occhiali da vista, ma chi può sottoporsi a questo tipo di intervento? Allora come abbiamo già visto prima il dottor Gasperi ha mostrato degli esami strumentali fondamentali per studiare la cornea, ovviamente il paziente che può sottoporsi a un paziente che ha una cornea idonea, di spessore idoneo, che non ha patologie particolarmente invalidanti, che non ha infezioni in atto, quindi pazienti che vengono studiati con una corretta anamnesi, qua vediamo un intervento in diretta, praticamente è stata esercitata prima una pulizia, una disepitalizzazione dell'epitelio e poi il laser, adesso vediamo dopo una corta pulizia della cornea, questa che vediamo è la cornea, adesso parte il laser, puliamo, ecco c'è un po' di epitelio, ecco qua, il laser è un laser a spot molto piccolo, molto preciso, molto rapido, che praticamente non fa altro che stampare sull'occhio la lente che noi portiamo. Nella stragrande maggioranza dei casi è possibile raggiungere una correzione totale, ovviamente c'è sempre un margine di possibile non correzione, raro, che dipende ovviamente anche dalla reazione biologica dell'organismo perché non siamo tutti uguali, però generalmente riusciamo ad avere dei risultati veramente ottimali, il paziente esce che già è emozionato e contento e spesso ci ringrazia in diretta, quindi veramente è una bella chirurgia. Deve essere davvero una bella sensazione quella di liberarsi dal peso, dall'ingombro degli occhiali, comunque insomma ritornare poi a vedere senza l'ausilio degli occhiali sicuramente insomma è una cosa eccezionale, fantastica. Sì, la tecnologia ci ha aiutato tantissimo, la chirurgia oculistica è una chirurgia di precisione, devo dire che la tecnologia e anche l'abilità di tantissimi chirurghi in Italia ha permesso di avere veramente risultati eccezionali. Mi pare di capire anche vedendo le immagini, avendo visto le immagini che si tratta poi di un intervento anche poco invasivo. Sì, perché si lavora solo in superficie, non si apre il bulbo oculare e quindi praticamente il paziente dopo alcuni giorni di qualche piccolo sacrificio ritorna a una vita praticamente regolare. Ci sono delle patologie, dei difetti della vista per i quali però non è possibile utilizzare questo tipo di tecnica, ovvero il keratocono. Sì, diciamo che ne parlerà adesso anche più tardi una mia collaboratrice, ma certamente il keratocono è una controindicazione assoluta perché il keratocono è una patologia geneticamente determinata in una buona parte di casi o può essere anche sporadica in cui come vediamo in questa immagine, vediamo quella parte rossa, il tessuto corneale è sfiancato, keratocono, cornea, cono ed è anche più sottile e ovviamente siccome il laser non fa altro che abblare, togliere del tessuto, se noi togliamo tessuto su un tessuto che è già sottile non facciamo altro che accelerare e peggiorare quella situazione che poi sarà inesorabilmente destinata a un appianto di corne, quindi no assolutamente chirurgia refrattiva nel keratocono. In ogni caso il keratocono è una patologia che può essere curata come ce lo spiega la dottoressa Martina Colasante, medico oculista, sempre in casa sollievo della sofferenza. Ascoltiamola. Il keratocono è una patologia corneale non infiammatoria caratterizzata da un progressivo assottigliamento dello strama corneale centrale e paracentrale con formazione di un astigmatismo irregolare e successiva riduzione dell'acuità visiva. Rappresenta sicuramente la controindicazione assoluta all'intervento di chirurgia refrattiva e tende a manifestarsi fino alla terza decada di vita per poi tendenzialmente manifestarsi in maniera costante nel tempo e rappresenta non a caso la prima indicazione all'intervento di keratoplastica. L'esame obiettivo in realtà ci mostra alcuni a livello bionicroscopico, opacità corneali oppure la presenza diciamo anche di stria di Vogt, però in realtà diciamo l'esame di rimente per poter poi fare secondariamente diagnosi è la topografia corneale. Esistono varie tipologie di topografia corneale, sicuramente quella altitudinale ci permette di avere una valutazione più completa della superficie corneale anteriore e della superficie corneale posteriore. Diciamo che per il trattamento del keratocono si seguono una serie di step. Sicuramente la prima fase prevede l'uso di una correzione atempiale, il classico occhiale, che però non permette diciamo al paziente di avere una buona qualità della visione, per cui successivamente si prevede a quello che è l'uso di lenti a contatto, che però non sono le classiche lenti a contatto morbide, ma sono appunto lenti a contatto ibride che hanno il compito quindi di andare a localizzarsi a livello diciamo dello sfiancamento del cono e sono appunto delle lenti a contatto che seguono proprio la topografia corneale. Attualmente anche a San Giovanni Rotondo in particolar modo abbiamo intrapreso il cross-linking corneale, che è una tecnica parachirurgica che si utilizza proprio nei casi di keratocono evolutivo. Prima ovviamente di arrivare a quelle che sono delle tecniche un po' più invasive come gli anelli intrastromali oppure l'intervento di keratoplastica. Esistono varie tipologie di cross-linking corneali e il cross-linking corneale non è altro che una tecnica che prevede la combinazione della riboflavina che è la vitamina B2 con i raggi ultravioletti e comunque la letteratura dimostra una sua notevole efficacia e sicurezza. Grazie alla dottoressa Colasante. Allora dottor Laborante, adesso in questi ultimi minuti che ci restano prima della fine della puntata entriamo nella vita quotidiana, quindi mi raccomando adesso tutti attenti, carta e penna se necessario prendete appunti perché il dottor Laborante ci aiuterà anche a capire quali sono gli stili di vita corretti, quali sono anche i giusti comportamenti, come possiamo prenderci cura dei nostri occhi perché è possibile. Iniziamo dalla cosa con la quale abbiamo a che fare tutti, tutti i giorni, ovvero gli schermi del telefono piuttosto che del computer, fanno male, sono dannosi? Allora il problema della tecnologia è che fa male se si abusa, quindi diciamo è l'abuso che determina delle grosse problematiche perché è chiaro che noi sottoponiamo l'occhio per parecchio tempo a utilizzare la vista solo da vicino, quindi determiniamo una contrazione, uno spasmo del muscolo ciliare che come abbiamo visto prima nella presbiopia viene meno e quindi serve per la messa a fuoco e questo poi determina anche delle oscillazioni della visione anche del computer e quindi mettiamo sotto sforzo anche il muscolo irideo, pupillare, quindi diciamo che il problema è l'abuso, questo soprattutto io lo dico alle mamme per i bambini perché spesso ai bambini gli si dà un bel telefonino in mano e lascia stare là le ore, quindi questa è una cosa assolutamente sbagliata perché l'occhio del bambino è ancora più sensibile e quindi già le leggi internazionali e nazionali consigliano a chi lavora sul computer di avere dei tempi diciamo di sospensione, si consiglia ogni due ore, un quarto d'ora di inattività, io direi che la cosa che non è sempre facile fare, per cui io direi il consiglio che mi permetto di dare è ogni tanto, ogni mezz'ora, alziamo lo sguardo dal computer, facciamo in modo anche per pochi secondi che lo sguardo guardi lontano, ma è tale che il muscolo si rilascia e quindi determiniamo un riposo dell'apparato visivo perché altrimenti si può andare incontro a una patologia che è la stenopia accomodativa in cui l'occhio è rosso, è dolente, sensazioni di corpo estraneo, può andare incontro a secchezza, cefalea, quindi una cosa banale può creare poi delle problematiche che diventano veramente quotidiane, quindi ogni tanto guardare all'infinito, guardare lontano, anche solo ad alcuni metri di distanza. Bene, abbiamo sentito, sentiamo parlare anche ultimamente di questi occhiali antiluce blu che pare servano proprio a proteggerci da questi raggi blu, adesso io la dico in maniera come dire da non addette ai lavori, poi lei ci spiegherà meglio, sono occhiali non da vista ma che fungono da schermo a chi magari è costretto ad utilizzare il computer per parecchie ore, funzionano, servono? Sì, allora diciamo che praticamente la luce blu è una luce che viene a una frequenza oscillante tra i 360 e i 500 nanometri e la luce generalmente ha un'oscillazione da 350 a 700, quindi è una porzione della nostra luce che abbiamo nell'ambiente che viene emessa in particolare dai tecnologie, computer, tablet, telefonini e anche dai led e si è visto che la luce blu se invece se ne abusa può determinare dei danni dell'epitelio pigmentato che è una porzione particolare della retina e quindi può favorire o può far peggiorare problematiche legate alla macula. Abbiamo già nell'organismo un sistema di protezione che soprattutto il cristallino assorbe molto di questa luce ma non sempre è possibile, per cui io credo che sia sugli occhiali da vista sia in maniera autonoma su un occhiale neutro per chi sta sul computer, utilizzare questa protezione può essere certamente utile, ovviamente l'abuso è sempre quello principale, quindi utile ma non assolutamente risolutivo. In 30 secondi ce la fa a darci anche qualche consiglio perché ho scoperto che è anche una sana alimentazione. Certamente, abbiamo in natura tanti elementi, quindi frutta e verdura, perché frutta e verdura? Perché beta-carotene, carotenoidi, beta-carotene, licopene, l'exantofila, l'autena, l'exantina sono tutte molecole fondamentali per proteggerci dagli agenti esterni, sono antiossidanti, contro i radicali liberi, la vitamina A è fondamentale per la visione, la vitamina E, la vitamina C, quindi consigliamo ai nostri ragazzi non le briochine ma frutta e verdura in abbondanza. Bene, dottor Laborante, lei è riuscito egregiamente a tenere testa ai tempi televisivi perché mi rendo conto che non è facile riuscire a sintetizzare poi quando si parla di patologie che, come dire, meritano anche il giusto approfondimento. Lei c'è riuscito egregiamente, io la ringrazio, come sono sicura che anche i nostri telespettatori avranno apprezzato, come sempre ringrazio tutti voi per averci seguito, noi vi diamo appuntamento con Spazio Salute per la prossima settimana e buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV. Grazie a tutti.